Roma ha avuto successo in un terreno impervio dove il Parlamento siciliano non era riuscito a muovere più di qualche passo incerto. L'accordo sulle province è stato trovato in meno di 24 ore nel cuore della notte dopo un tavolo fiume tra il ministro della pubblica amministrazione e Dalia, nonché il leader siciliano di Udc, il responsabile welfare della segreteria PD Davide Faraone e il presidente della regione Rosario Crocetta collegato da casa perché costretto a letto dall'influenza. Il testo prevedrebbe il tanto sospirato superamento definitivo dell'attuale modello, affermando sì la nascita di liberi consorsi dei comuni, ma modificandone radicalmente il concetto espresso dal testo presentato settimane fa dal governo. Cancellata la norma che impediva ai comuni di creare consorsi autonomi, indebolendo sensibilmente le province originarie. Qualora questo testo fosse approvato in toto, i comuni potrebbero unirsi liberamente fra loro, con l'unico paletto della ferma volontà di almeno due terzi di ognuno dei consigli comunali richiedenti. Invariato il sistema elettivo dei consorsi, con assemblee formate da sindaci e presidenti dei consorsi eletti dai consiglieri. Confermate infine le tre aree provinciali di Palermo, Catania e Messina. Una soluzione ragionevole, secondo Antonello Cracolici, firmatario del precedente testo, che ha detto, speriamo regga la prova d'aula. Già, perché adesso l'assiste da Roma dovrà essere finalizzato dall'Arse, chiamato oggi a votare la legge e archiviare la vicenda provincia una volta per tutte. Intanto, insieme alla legge sul riordino, pare stia viaggiando di pari passo una mini-legge che garantisca la proroga dei commissariamenti delle ormai vecchie province in scadenza questo sabato.